ciao ragazzi siamo al magic lake di di maro oggi pescheremo qui guardate che figata questo posto è praticamente in mezzo alle montagne guardate è molto bello si va più che altro a trote e ho deciso di usare la mia canna quella solita con montatura con galleggiante e finale camola vedremo di che cosa sapremo cosa sapremo fare con queste con questo tipo di aggancio ho deciso la camola perché qua lo spinning le trote vanno troppo sul fondo e non serve ho messo qui perché qui entra l'acqua dal torrent dei torrenti perché questa era una cava ma ci sono tutta l'acqua che entra dai torrenti dice il mio galleggiante sto cercando di sfruttare questa cosa vediamo vediamo ma con pazienza vediamo se riusciamo a sfruttare questa cosa altrimenti si cambia posto perché questa è una cava particolare perché pur essendo un laghetto semi artificiale e comunque ci sono il torrente che entra a volte trovi anche delle trote che vengono fuori autottone del torrente che c'è proprio qua dietro che il noce ed è bello bello proprio ho pescato le mie cinque trote sono queste qua vediamo se si riesce a vedere aspetta giro la telecamera ecco qua cinque belle trotone questo è il mio permesso giornaliero di oggi di questo lago il limite cinque trote come vedete le ho segnate tutte cinque ragazzi spero che vi sia piaciuto il video a me non resta che salutarvi per appuntamento con il prossimo video del canale